Allora andiamo a parlare di quest'ultima notizia, la Federal Trade Commission va a denunciare tra virgolette Amazon per aver mantenuto un monopolio illegale con il suo potere diciamo sul mercato e questo è una notizietta niente male perché insomma Amazon, la conosciamo tutti, è il gigante dell'e-commerce, è vero che la maggioranza del suo fatturato, del suo utile, la fa con AWS, quindi tutto quello che è la struttura online per i clienti, però insomma è una notizia di nulla da meno visto che Amazon in questo momento comincia ad affrontare anche una certa maturazione, un'azienda abbastanza matura e fa più fatica a fare i numeri che faceva in passato. Assolutamente, interessante, allora facciamo una premessa, chi è, che cos'è la Federal Trade Commission, partiamo da qui perché ci permette di comprendere un attimino quello che è effettivamente successo. Stiamo parlando di un'azienda indipendente, indipendente del governo degli Stati Uniti che è incaricata di proteggere le persone, i consumatori ovviamente e garantire un mercato competitivo, quindi è contro i monopoli, è contro i trust, è contro i cartelli, è contro tutte quelle manovre che limitano fortemente la concorrenza degli stati, scusa, la concorrenza delle aziende. Questa è chi è la Federal Trade Commission. Che cosa è successo? È stato accusato Amazon di avere un monopolio de fatto ingiustificato, per non dire praticamente illegale, che va a distruggere quella che è la concorrenza, cosa su cui gli americani puntano parecchio. Va detto che è da parecchio tempo che la Federal Trade Commission, soprattutto sotto la presidenza dell'ultimo presidente, è molto aggressiva nei confronti delle grandi aziende, delle fan che salvo Netflix, quindi abbiamo visto l'accusa Apple, l'accusa Google, l'accusa Microsoft, a Meta, tutta una serie di realtà le quali sono state fortemente al centro dell'occhio del ciclone per delle accuse di aver peggiorato la concorrenza. In questo caso qual è l'accusa principale? L'accusa principale è che Amazon, e di fatto è una cosa molto comprovata dai dati, va a limitare la concorrenza dei suoi stessi venditori al di fuori del servizio di Amazon. Quando un venditore vende fuori da Amazon, che si prende tante commissioni a prezzi più bassi, tendenzialmente Amazon gli tronca le gambe all'interno della piattaforma di Amazon, e questo è un atteggiamento definito, con sufficiente base ragionevole, assolutamente ingiustificato per non vedere legale. Questo è quello che è successo. Ma a livello legale, secondo te, può succedere qualcosa come successe per la Standard Oil negli anni 20, se non sbaglio, negli primi anni del Novecento, in cui la Standard Oil venne suddivisa nelle famose sette sorelle del mercato petrolifero perché limitava la concorrenza. Aziende come Google, Amazon, Apple, Microsoft rischiano qualcosa del genere al giorno d'oggi. Allora, dire di no sarebbe, a mio parere, assolutamente non corrispondente a quella che è la realtà dei fatti. Se ne sente discutere, posto che comunque dobbiamo vederlo, insomma, se ne sente tanto discutere di due possibilità. Tendenzialmente le possibilità che vengono ricercate allo stato attuale delle cose rispetto a questi grandi colossi, questi grandi giganti che distruggono, sicuramente la piccola media impresa, distruggono anche i concorrenti, per cui di fatto inglobano, continuano ad inglobare cose. Due possibili soluzioni. La prima è lo scorporo, dividere l'azienda, in tante piccole aziende, ognuna delle quali è settoralizzato su un determinato settore, lo stiamo vedendo con Alibaba, per quanto non facente parte del mercato americano, ma lo stiamo vedendo, con i grandi colossi cinesi. L'altra possibilità, un po' più democristiana passando il termine, è quello di un adeguamento da parte di questi grandi colossi, quali comunque sono sotto il governo statale, di doversi adeguare a delle norme estremamente più stringenti rispetto a quello che è stato il Far West, che ci è stato ottenuto adesso. Ed è un atteggiamento che fa strano, detto dagli Stati Uniti, i quali libertà assoluta da parte dell'azienda, ma di fatto ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Probabilmente dovranno passare molto tempo, rispetto a quando effettivamente questo vedrà degli effetti, ma comunque una delle possibili direzioni su puramente quella. Tu che ne pensi? Penso che un approccio pesante come la segmentazione dell'azienda in differenti piccole aziende sia un qualcosa di molto più remoto rispetto al passato, dove adesso i governi, specialmente quello statunitense, può intervenire con delle leggi a hoc per limitare la crescita più che andare a distruggere diciamo l'azienda, che dal punto di vista commerciale comunque porta tante tasse al mercato americano, al governo americano, per cui al momento odierno andare a spezzare aziende può ridurre anche l'introito fiscale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!